Hanno approfittato del buio e dell'isolamento del centro commerciale posizionato lungo il tracciato della vecchia statale del Santo, i banditi che la scorsa notte hanno saltato la gioielleria all'interno del centro commerciale Le Centurie di San Giorgio delle Pertiche. Erano circa le 4 quando i malviventi sono entrati nell'immobile con un'auto, hanno percorso la galleria per poi schiantarsi contro la vetrata del negozio. A quel punto i banditi non era stato altro che mettere mano ai gioielli custoditi nelle vetrine. Sul posto sono intervenuti in piena notte carabinieri e vigili del fuoco ancora da quantificare il valore dei preziosi rubati e da calcolare l'ammontare dei danni.